Allora è ritornato anche Davide Poltroneri a Firenze, allora Davide l'esperienza ne è passata tanta no? Da quell'anno lì ne hai fatta tanta, l'esperienza sei diventato un giocatore affidabilissimo della categoria e veni dall'anno scorso da un grande successo con Udine, che ruolo ti senti addosso alla Fiorentina? Sono consapevole di essere un giocatore importante per questa squadra, ma penso che quest'anno comunque come tutti gli anni, poi in tutte le squadre, però la differenza alla fine la faccia il gruppo, quindi io spero di poter dare un po' di esperienza, abbiamo tanti ragazzi giovani, quindi questo fondamentalmente cercare di fare il massimo con l'esempio, con quello che serve per cercare di aiutare il coach, la squadra e per provare a fare il meglio possibile. La tua esperienza cosa dice con la costruzione della squadra? C'è Blois, c'è Rosignoli, c'è Valentini, c'è Motta? Mi sembra che ci sia una squadra molto interessante, con dei punti di riferimento veri e anche qualche scommessa che può essere vinta. Sì, sicuramente la squadra non è stata creata a caso, insomma comunque con troppe scommesse, perché siamo comunque in 5-6 che comunque abbiamo già disputato questo campionato o addirittura anche molti campionati superiori, quindi alla fine ci sono due o tre scommesse magari sui ragazzi, ma già in questi giorni comunque hanno dimostrato di poter meritare, di far bene, di meritarsi anche questa opportunità, quindi siamo fiduciosi, sicuramente proveremo a fare il meglio possibile. Encremenia è destinata a fare un campionato a parte, per te poi come vedi, chiedo di dare un'occhiata e dirci un po' come vedi il girone A, quello della Fiorentina. Il girone A sicuramente non penso che sia il più forte come magari potrebbe essere quello dell'anno scorso di Udino o altri, però ci sono comunque delle ottime squadre come Omegna, noi speriamo di... noi lavoreremo tanto, perché comunque la nostra squadra è stata costruita per lottare, quindi penso che lottando ci si possa togliere delle belle soddisfazioni, perché è così che alla fine poi per vincere, per fare le annate buone ci vuole quello, quindi bisogna creare un buon gruppo e già siamo siccome un buon... cioè si vede che siamo comunque già abbastanza... andiamo abbastanza d'accordo, quindi siamo contenti, fiduciosi, dobbiamo lavorare forte e poi le soddisfazioni arriveranno. L'ultima cosa, sempre è stato l'essere atipico di poter giocare tanti ruoli, è stata una tua caratteristica che ti ha fatto fare tanta strada. Nella tua carriera mi sembra ci siano anche tanti altri di giocatori che possono giocare tanti ruoli. L'essere così atipici e poco inquadrabili anche dall'avversario può essere una carta vincente per voi? Penso che la squadra sia stata costruita volontariamente così, quindi ovvio bisogna riuscire a trovare la quadratura del cerchio e magari ci metteremo un po' più tempo, però secondo me questo potrebbe essere un'arma al nostro vantaggio, perché comunque siamo in tanti che possono giocare più ruoli, quindi è una squadra facilmente... cioè difficilmente marcabile per gli altri, quindi va bene. Può essere la carta giusta? Sì, potrebbe essere questa la cosa che ci fa fare il salto in più.